Oggi, sabato 15 dicembre, è attesa un'altra entusiasmante puntata di Amici 18. Si tratta dell'ultimo appuntamento prima della pausa natalizia Sabato prossimo, infatti, il talent show di Maria De Filippi non è risulta in palinsesto Vi sveliamo che ci saranno numerosi colpi di scena come il primo allievo di Amici 18 eliminato Giù si dovrà abbandonare la famosissima scuola. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo Anticipazioni Amici 18. Marco Carta ospite in studio.L.A. puntata di Amici 18 è in programma alle ore 14 10 circa e come ospite ci sarà Marco Carta. L'artista, nonché ex allievo del talent show di Canale 5, presenterà al pubblico il suo ultimo singolo uscito da pochissimo Assisteremo alla sfida tra la squadra di Atene e di Sparta. La prima sarà capitanata Giordana mentre la seconda da Tish Ad avere la meglio, per ben due volte, sarà proprio quest'ultima.Eliminato Amici 18, ecco chi è? Bufera e polemiche Vi diciamo subito che l'eliminato di Amici 18 del 15 dicembre è la ballerina Giussi Romaldi Ci sarà da prima una discussione tra la ragazza, alcuni professori e degli allievi che, dopo aver accettato l'immunità, la rifiuterà E così, dopo un confronto con il latinista Gianmarco, Giussi non riuscirà a imporsi abbastanza In seguito, la Romaldi sarà costretta a salutare i suoi compagni a metà puntata e a lasciare per sempre la scuola L'eliminazione di Giussi, inoltre, causerà delle polemiche sui social.Anche Daniel si ritroverà nel mezzo di una sfida contro un aspirante allievo Fortunatamente riuscirà a vincere, e a restare nel programma di Amici.Insomma, sarà una puntata imperdibile Inoltre, sarà una puntata imperdibile